L'iter per arrivare alla realizzazione di una rotatoria tra via Lupi e via Bari è stato già avviato e da breve si potranno avere ulteriori ed importanti indicazioni. Lo ha sottolineato dall'assessore al traffico e alla mobilità Giancarlo Capoccia rispondendo all'interpellanza presentata dal consigliere di opposizione Antonio Rotundo nel corso del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che tra i dieci punti all'ordine del giorno presentava anche quello relativo al trasferimento del centro di recupero Tartarughe Marine attualmente ubicato nel Parco di Rauccio, nell'immobile denominato Casa del Guardiano, a quello che si era realizzato nell'area dell'idrovora di Frigole una volta ultimati i lavori di riqualificazione. Tutte le procedure per il trasferimento sono state ultimate come sottolineato dall'assessore alle politiche urbanistiche Gianpaolo Scorrano che ha voluto lodare il lavoro svolto dal dirigente del settore Parco di Rauccio Antonio De Rinaldis. L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità e dall'unanimità è stato votato il successivo ordine del giorno e vale a dire quello relativo all'acquisizione al patrimonio di Palazzo Carafa dei beni immobili confiscati alla mafia, due appartamenti in via Presta, un garage in via di Lecce, un terreno confabbricato in via San Nicola che si estende su oltre 28.000 metri quadri ed un altro di quasi 5.000 metri in località Vellese. In consiglio sono arrivati all'approvazione anche sei punti all'ordine del giorno relativi a debiti fuori bilancio nella maggior parte dei risarcimento a cittadini che avevano aperto un contenzioso con la pubblica amministrazione per cadute causate dal cattivo stato di strada e marciapiedi. La mozione relativa ad interventi di rilancio del settore edile presentata dai consiglieri di Con dopo un'attenta discussione è stata modificata in ordine del giorno, successivamente approvato.